Ciao ragazzi e ragazze, oggi sciopero dei sottotitoli, ma questo video per riportare una frase che mi è piaciuta tantissimo, che ho letto da una persona che stimo un sacco, che ho incontrato nell'universo cripto di Twitter, vi metterò il suo riferimento nella descrizione, che ha scritto questa frase Quelli che dicono che ti supporteranno sono quelli che poi non lo faranno. Per quanto questo sembri assolutamente disincantatore, ecco, come pensiero, La realtà dei fatti è che ci ho pensato, volevo fare un pisolino oggi pomeriggio, non l'ho fatto perché stavo pensando a questa cosa e vi giuro che non riesco a darle torto, non riesco a darle torto e è un pensiero che sto maturando da qualche giorno riguardo quanto in questi otto mesi di ricerca di capitale per Oscar, che lì è proprio la classica cosa in cui tu devi chiedere qualcosa alle persone quindi non è tanto una costruzione di una relazione commerciale a lungo periodo cioè lì una startup o vende o prende fondi o non sopravvive, non è neanche una relazione personale cioè ci sono delle cose da capire subito, sei interessato, non sei interessato, mi puoi aiutare, non mi puoi aiutare Quante volte qualcuno mi ha detto che mi avrebbe aiutato e non è successo e l'aiuto più utile è arrivato da persone che magari manco pensavo di dedicare del tempo a una call con loro Credo che premierò queste persone perché effettivamente sono quelle che ci sono state ma sono quelle che hanno fatto meno pubblicità del loro essere di supporto Secondo me c'è una cosa alla quale pensare più delle altre che è poi un po' lo stile americano del pensiero prima che mi piova in testa Che è un po' questo, non mi puoi aiutare, non ti posso aiutare, ti presenterò almeno una persona che possa farlo Questo è il vero feedback A meno che tu non pensi veramente che quello che sto proponendo sia una cazzata allora a quel punto gradirei che tu me lo dicessi però questo capisco che possa non essere facile per tutti Quindi la prossima volta che non sappiamo come aiutare qualcuno e non smetterò mai di ribadirlo facciamo un'introduzione, facciamo una mail, un nome, un altro nome, facciamo una intro e speriamo che succeda qualcosa Soprattutto non pubblicizziamo il nostro essere di supporto quando poi di fatto questa cosa non succede perché non è utile per il tempo di nessuno e in realtà da ambo le parti cioè è veramente una stupidaggine che non porta a un investimento di nessuna tipologia se non al tempo perso Spero che vi sia stato utile Stop whining